Ciao, sono Francesco Ronca, ho 24 anni e vengo da Vietri sul mare in provincia di Salerno. Ho appoggi anche sul Napoli, Roma e Milano e sono anche automonito. Mi definisco una persona ricca di emozioni, testarda e determinata. Pratico sport, recito, canto. Odio la domenica perché tutti vogliono riposare e io invece ho sempre voglia di lavorare. Amo così tanto il mio lavoro che lo pratico da 18 anni insistentemente. E non mi sono mai riflessato un obiettivo diverso se non quello di essere un attore. Questi sono i miei profili. Grazie.